. Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 16 agosto 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo pesci. Luna maleducata e venere anche. Maleducata quest'oggi la luna allo zenit, vi sollecita a sbrigarvi, altrimenti perderete il treno o l'aereo. Impossibile fingere di non sentire, vi prenderebbe per mano trascinandovi quasi di peso. Se per divertire gli altri siete al lavoro, testimone il sole in sesta casa, avrete la sorpresa dolce e amara di un altro straordinario, discretamente remunerato, tuttavia pur con la spinta della luna che dal punto più alto del cielo vi vorrebbe mettere in pista al più presto e venere opposta, dunque non contenta, non riuscite a decidervi sul da farsi, recuperare qualche vecchio amico o l'ex ancora spasso come voi o sentirvi i soliti esclusi, coatti, fuori luogo. Col passaggio di Mercurio che torna sui suoi passi accanto al sole in leone l'impressione di sfasamento oggi si va facendo sempre più forte. Chiarimenti poco fruttuosi, insoddisfacenti. Vi sono delle critiche e dei pettegolezzi che possono rasentare la diffamazione. Un periodo ricco di discordia e litigi, contrasti e zuffe. È un momento estremamente importante e determinante per le cose che si desiderano. Quello che sognerete in questa settimana potrebbe realizzarsi, i vostri sogni sono veritieri e vi conferiranno un nuovo entusiasmo nell'affrontare certe situazioni. Non temete per la vostra serenità. Arriveranno buone notizie che risolleveranno la situazione. Siate più disponibili a confrontarvi con le idee degli altri, potreste scoprirvi più ricchi e con rapporti di amicizia più solidi. Potreste migliorare la vostra situazione sentimentale ma è un periodo in cui fate di tutto per allontanarvi dal vostro partner anziché avvicinarvi. Siate in particolari meno esigenti e date il giusto spazio al vostro partner. Contatta gli amici che vivono lontano o che non senti da molto tempo. Nettuno ti suggerisce di giocare il gioco dell'attesa in amore. Guarda la realtà. Per chi è in coppia ed è nato di lunedì e venerdì oggi potrebbero esserci particolari manifestazioni di affetto da parte del partner. Avete bisogno di coccole? Le riceverete. Oggi il vostro umore avrà alti e bassi, siete decisamente stressati e meritate un buon periodo di riposo. Fate pulizia tra le amicizie e mantenete solo quelle che giudicate decisamente sincere. Non siate esigenti in questo periodo con il partner. Rispettate i suoi momenti no perché saprà ricompensarvi in futuro. Ferragosto con uno stato psicologico è abbastanza buono e messo in rilievo da una ottima forma fisica, che il transito di una bella luna nel segno vostro amico del capricorno, vi dona. Ottimi i rapporti con la famiglia, Urano, in angolo molto bello parla di una comunicazione eccellente genitori, figli e tra i fratelli e sorelle, specie se siete nati nella terza decade. Il sole resta ancora in leone e un nuovo ciclo sembra chiudere la pienezza della stagione estiva. Dal vostro segno Nettuno il marinaio Bisticcia con la luna gira mondo in sagittario, alta nel cielo in quadratura. Un po' di sollievo vi arriva però da Mercurio che già a notte fonda saluta Venere opposta al vostro segno per retrocedere in leone, dove incontra il sole generoso e salutista in sesta casa. Se anche oggi avete del lavoro da sbrigare sarete i primi della lista, ancorati al dovere dal vostro ospite Saturno sempre draconiano quando si tratta degli impegni presi. Amore ed Eros Se l'amore vi solletica o ponete resistenza, dopo un'esperienza negativa prima di ricascarci della persona in questione volete non solo la biografia ma anche una radiografia dell'anima. Se veri in casa con la vostra dolce metà, i pupi e il quattro zampe, se poi alla compagnia si aggiungono anche i suoceri. Si salve chi può. È bene che siate oggi prudenti nei sentimenti, specialmente voi che siete nati in marzo, spingervi troppo in la significherebbe automaticamente andare in battaglia e forse questo non è adesso opportuno. È vero che il pianeta deputato alla stabilità amorosa, Saturno, è benefico per il vostro segno, ma non pensate che la strada sia così in discesa, se volete lanciarvi in conquiste ambiziose, specie se siete nati nella seconda decade. Lavoro e denaro In vacanza per evitare questioni lasciate scegliere agli altri, fesse per voi punteresti dritti al mare individuando un angoletto tranquillo dove rilassarvi, meditare e al massimo ascoltare un po' di musica in sottofondo. Ma nessuna è così incantatrice come quella delle onde e il canto delle sirene che riuscite a sentire solo voi. Se il lavoro però vi tocca per divertire i vacanzieri non fate obiezioni, è già un lusso avere un'occupazione, per giunta discretamente remunerata. Vorrà dire che se sgobberete oggi farete vacanza domani, questo significa essere adattabili piegandosi alle circostanze come fa la canna di bambù che il vento non riesce mai a spezzare, mentre spacca i rami della quercia gigantesca. Ma resta fragile dalla sua stessa rigidità. Voi pesci, teneri esponenti dell'ultimo segno zodiacale vi rivelate essere i più formidabili e temerari viaggiatori dello zodiaco, coloro che affronterebbero prodi e incoscienti l'ignoto. Si alternano in loro confuse paure, alla tendenza ad una vera e propria fuga nell'inesplorato. Non certo a caso molti astronauti sono dei pesci. Per i nostri viaggiatori dal piede veloce, perfetto un viaggio a Lisbona. Benessere. Nonostante la griffe di Saturno che invecchia e raffredda sempre un po' e la luna mangiona che vi vorrebbe abanchettare fino a scoppiare, state piuttosto bene, conducendo questa giornata estiva all'insegna della consueta morigeratezza. Belli allo specchio, sani e resistenti nello sport, in voi l'apparenza fragile e il fisico magro lino ingannano, sotto sotto siete più resistenti di uno scoglio. Denaro. Quale la pietra fortunata portata dall'esaltazione della luna nel vostro segno. L'aiolite o zaffiro d'acqua, rilassante ed equilibratrice dell'elemento maschile e femminile del carattere. Per lei, vivacissimo il vostro cucciolo, probabilmente nella struttura alberghiera dove avete prenotato qualcuno troverà da ridire, ma ormai sottodata non avete altre possibilità, per farlo stare zitto non rimarrà che coccolarlo tutta la notte. Per lui, figurarsi se mammina non avrebbe ficcato il naso nelle vostre relazioni, cominciando a criticare la nuova fiamma, infatti lo fa. Le due si capiscono al volo, la vecchia ruba il centro della scena, la giovane biascica una scusa e se ne va. Anche stavolta ha vinto lei. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 10. Finanze, 6. Beneessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se lo trovi interessante e utile, non dimenticare di cliccare sul pulsante mi piace. Buona giornata.